Di notte l'occhio umano ha difficoltà a vedere. Per questo motivo il rischio di incidente è tre volte superiore che di giorno e persino dieci volte superiore se piove o se nevica. Chi non si rende visibile sfugge spesso all'occhio delle altre persone. A piedi o con la bici la metà degli infortuni potrebbe essere evitata se i ciclisti ai pedoni si rendessero più visibili. Quindi consigliamo di indossare vestiti chiari e di usare anche materiale rinfrangente. Questo tipo di materiale si trova su cappe, su giacche ad esempio, anche su ombrelli per i pedoni. L'importante è veramente di essere visibile a 360 gradi da tutti i lati. Poi ci sono anche fasce, bracciali rifrangenti e perfino adesivi che si possono mettere sulle cartelle e sugli zaini ad esempio. Il materiale rifrangente può dunque salvare la vita. La famiglia a sinistra è visibile da lontano grazie al materiale rifrangente. La famiglia a destra indossa vestiti scuri. All'automobilista resta solo pochissimo tempo per reagire. Per i ciclisti è particolarmente importante essere visti abbastanza presto dagli altri utenti della strada. Consigliamo di controllare l'illuminazione regolarmente in avanti e indietro con i catari frangenti in avanti bianco, indietro rosso e aranci ai pedali. Poi si possono montare anche catari frangenti sui raggi delle ruote della bici e andare in giro con bracciali rinfrangenti. Per strada, vedere ed essere visti è fondamentale, specialmente di notte e con il cattivo tempo. Perciò ricorda, see you, fatti vedere!